Domenica si celebrerà la giornata mondiale dei migranti e del rifugiato, un tema caldo anche sul territorio cremonese dove gli stranieri presenti nel 2015 erano 41.166. Il picco più consistente si è avuto nel 2011 quando gli stranieri toccarono e superarono le 42.000 unità. Ma la crescita negli ultimi 15 anni è stata radicale per eventi storici che hanno prodotto ondate migratorie che ad oggi rappresentano un problema europeo. Un'emergenza che la Chiesa Cattolica sta affrontando in prima linea attraverso operatori e mettendo a disposizione le proprie strutture per ospitare i migranti tra i quali si annida un secondo problema, la presenza numerosa dei minori non accompagnati. In base ai dati diramati dalla Diocesi di Cremona, il dato provinciale che fotografa la situazione della fascia 0-14 anni riporta che nel 2015 erano 9.365 i minorenni. A livello diocesano il numero degli under 18 sale a 10.679 unità, una popolazione crescente alla quale occorre pensare, spesso dimenticata rispetto alle dimensioni di un'urgenza più grande.